Nome in codice. Andromeda o Andromeda OS. Se ne parla bene o male dalla fine di questo inverno. Dietro a questo nome ci sarebbe l'idea di tenere da tutte le versioni di Windows 10. Lanciato nel 2015. Una sorta di piattaforma. P ancora che un merge. In pratica realizzando l'ideale di Nadella di far convergere finalmente tre sistemi operativi. Desktop. Xbox. Mobile. In un'unica risorsa di base. Come dire. La disponibilità di un'unica shell. Per componibile. Per tutte le versioni di Windows. Sarebbe finalmente la volta buona per assaporare Windows. Windows. Nella migliore delle modalite possibile a seconda delle diagonali e del Davis utilizzato. Senza che sia l'utente. Come accade ancora oggi. Ad adattarsi a Windows 10. Quindi non si parla n di un nuovo prodotto. N di una trovata di marketing. N di un nuovo OS. Quanto piuttosto della base comunque su cui declinare poi Windows. Come effettivamente serve averlo. A seconda del Davis. Il progetto di suo potrebbe riallineare Microsoft anche al mercato smartphone. Forse anche dando ancora una ciancia a Redmond. Magari sul mitico. Tanto se n'è parlato. Surface Phone che ancora nessuno ha visto. Andromeda OS. Come una sorta di piattaforma su cui aggiungere servizi. Permetterebbe di montare le funzionalite che servono. Andando oltre al concetto di ogni Windows platform. Quindi offrirebbe a tutte le versioni di Windows la possibilità di adeguarsi. Anche per carico di memoria. Ai sistemi su cui viene installato. Resterebbero le parti necessariamente condivise un Ecore e UWP. Ma dove non serve si potrebbe evitare tutta la parte ancora presente di Win32. 2. Effettivamente un minimo assaggio di questo approccio. Effettivamente quanto accade con Windows 10. Mobile che offerto in pacchetti separati da cui gli OEM possono evitare di prendere delle. Funzionalite. Come continuum per esempio. Se l'approccio Andromeda OS dovesse funzionare sugli smartphone. Microsoft potrebbe pensare a una sua estensione anche a devispi importanti. Si potrebbero avere tante diverse selezioni di Windows. Si spera senza dover mettere mano alle SKU per essere sicuri che su un desktop o su un server ci. Si è tutto quello che ci si aspetta e quindi almeno mantenendo dei nomi di riferimento per. Comprendere quali devis stanno montando quale sistema operativo. Finalmente Redmond riuscirebbe a far quadrare il cerchio per avere il suo Windows efficiente su. Ogni tipo di devis. Oggi siamo a Windows 10. E se fosse tempo di voltare davvero pagina e inventare qualcosa di nuovo. Perce non pensare persino a cambiare nome.